Siamo tornati Allora oggi volevo darvi qualche aggiornamento Sono 43 giorni Martedì Ho fatto una festa in piscina Non l'ho filmata Lo so Mercoledì Mi sono preso un nuovo telefono E così posso chiamare Comunicare Mentre sono qua Ah innanzitutto la tazza Questa qua È la cosa Più figa al mondo in assoluto È un obiettivo E quindi mercoledì ho fatto questo Ho rivisto la mia seconda famiglia ospitante Quella con la casa bella Qui abbiamo la casa È come una casa massiva È come enorme ragazzi Oggi Andrò a cucinare Con Luca Pasta Per Joshua Faremo la carbonara Così scoprirò un pochino Se piacerà agli americani Eppure no Stiamo facendo la carbonara Qua per gli americani Brutti Sugo L'uomo Stanno tenendo il pepe E uovo E formaggio E uovo e formaggio Piazza giorno qua Come ti senti? Insomma È bello? Ti rivedi oppure no? Cioè È abbastanza Sono Contento di essere qua diciamo Bello È on? È on? È on Why? Wow Can you see me? Yeah Ok So Mettiamo dentro? Sì È dentro Sì Sì Mettiamo questa Bene ragazzi Stiamo facendo carbonara Per questi americani Per la prima volta Per la prima volta Però che non capiscono niente Esatto Ah ok Why did you get the cheese? I mean It doesn't look like Parmesan It doesn't look like Parmesan It doesn't look like Parmesan Do you guys have fast food in Italy? Uh Not really Well we have McDonald's And the Burger King Oh no That's so weird Luca Come here Luca come here Luca come here Vieni Ciao Saluta A video? Sì Ah possiamo fare una foto Hi Hi Stai qua Oh Oh my god Why are you just in there? Oh yeah Definitely weird It's almost empty That's Kifo In Korea It's gross You wanna try that? No Smells bad It's not that bad No It's sugary It's a red Give up some water Oh my gosh Josh Josh I hate you Oh my god Esprimiti Che madonna Ah Fa schifo Come in I thought it was cutting Holy Ok go ahead Stop Don't take pictures Oggi è 22 luglio Domani sarà il 23 Sarà il mio 20esimo compleanno Mi sento terribilmente vecchio Quindi ho festeggiato con gli amici Con la famiglia Sembra che ci abbia dei problemi a metterla fuoco stamattina Ah Questo si chiama Bagel con la Philadelphia è buonissima